Buonasera a tutti ben rivisti qui con l'intervista pre partita abbiamo nostro ospite fisso Giorgio Nibbio e la new entry della squadra Marta Bergamaschi Giorgio sabato arriverà una squadra molto molto tosta, cosa ci dici? Arrivano una squadra forte, candidata ad andare su, è un sestetto che tutti hanno giocato in B1 se non in categorie superiori, noi andiamo avanti con il nostro gioco e vediamo quello che riusciamo a fare è importante che ci siano sempre dei miglioramenti Marta, ultima arrivata all'interno della squadra, come ti ci trovi? Molto bene, spero di imparare tanto, con le ragazze vado molto d'accordo e spero di migliorare sempre di più Ok, ci vediamo settimana prossima, ci vediamo sulla nostra diretta YouTube sempre forza Promoball!